L'acustri, storicamente Minecraft ha avuto 5 mob vote, di cui due sono stati voti del bioma, ma che sono ovviamente stati influenzati dai mob che c'erano dentro. Per chi non sapesse che cos'è un mob vote, ogni anno Minecraft ci dà la possibilità di scegliere uno dei mob da aggiungere all'interno del gioco, e vengono scelti tramite delle votazioni che non vanno sempre a finire bene, abbiamo visto quest'anno. Nel 2017 abbiamo avuto la possibilità di votare tra un calamaro mutante che vive nelle profondità marine, un fantasma che vuole in cielo ed è l'allucinazione di Steve, quindi del giocatore, e infatti spawna dopo 3 notti che non dormi ed è l'attuale vincitore di quel mob vote, una mola per disincantare gli oggetti, e poi un blades con degli scudi. Erano tutte proposte molto valide, il primo mob vote forse è stato il migliore e cosa ha vinto il mob più inutile. Non ci serviva un mob che volava in cielo e che ci attaccava mentre non dormivamo, anche perché ci annoia così tanto che la maggior parte delle volte andiamo semplicemente a dormire. Poi abbiamo avuto le votazioni dei biomi, nel primo ha vinto la taiga con le volpi e se non sbaglio anche hanno aggiunto le bacche, mentre nell'altro hanno aggiunto i rospi e le capre, e l'aggiornamento si chiamava Mountains and Cliff. Questi due erano i voti sul bioma che vi dicevo prima, ma poi sono tornati a fare il mob vote. Questo secondo mob vote e poi anche il terzo sono stati molto particolari. Nel primo avevamo una mucca gialla bellissima che viveva assieme alle api e non faceva letteralmente nulla, però era bella. Il secondo era un calamaro bellissimo illuminato nelle caverne che non fa assolutamente nulla, però è molto bello. Mentre invece il terzo mob era un pillager, una sorta di stregone del ghiaccio, l'unico con un'utilità che abbiamo visto nel mob vote far cadere dall'alto un pezzo di ghiaccio, ovviamente avrà vinto lo stregone di ghiaccio. No, ha vinto il Glow Squid. E sapete perché ha vinto il Glow Squid? Perché il voto è stato manipolato da parte di Dream. Nell'altro mob vote abbiamo avuto il Glare, l'Iron Copper e il Tough Golem. Aspè, non era Iron Copper, era Copper Golem. Comunque avevamo due golem fighissimi finalmente, un altro golem oltre a quello della neve, oltre a quello del ferro. No, ha vinto l'Allei. Quell'Alleato Blu che tipo ti svolazza attorno e ti riporta gli oggetti. Un po' inutile, ecco. Fino a quest'anno, mob vote del 2023. La mia opinione? La volete sentire? Let's go. In questo momento ci guardiamo assieme il trailer del Granchio e vi dico cosa ne penso e poi alla fine vi dico anche cosa ne penso sul boicottare il mob vote. Perché sì, si è creata una vera e propria rivoluzione e non me lo sarei mai aspettato, onestamente. Mi aspettavo un qualcosa di pacifico, una sorta di guerra amichevole tra noi streamer, oddio io preferisco il pinguino o il granchio? No, vogliono fare una rivoluzione ragazzi. Che dire. Let's go. Ah, mi raccomando, lasciate like al video e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ok. Mi fa troppo ridere come il video si chiama letteralmente mob vote e c'è il tipo che dice potrebbe essere un nuovo mob. Non l'hai tipo messo gigantesco nel titolo, vero Minecraft? Mi fa ridere la voce della tipa. Ok. Primo look, c'è lui che utilizza un cannocchiale, uno degli oggetti meno utilizzati nel gioco visto che esiste la Optifine, e vede dei granchi, che a quanto pare li fanno ciao ciao con la manina, che si stanno arrampicando nel bioma del mangroove swamp, quindi finalmente diamo anche un'utilità a questo bioma che mi è sempre sembrato un po' inutile. Ok, si sta muovendo verticalmente sulla pianta e questa è una cosa molto bella. Mai vista, non ho mai visto nessun mob arrampicarsi. Quindi gli diamo già un bellissimo punto a favore. Vedo che ha una chela molto grande, io so già a che cosa serve, ora lo vediamo assieme. Io? A me piace costruire. Allora, a parte la battutina sul This is Clawsome, che è tipo una battuta, this is awesome ma con claw, vabbè, lasciamo stare. Come ha detto, sostanzialmente questo mob è molto utile per i builder, perché abbiamo capito che ti consente di posizionare blocchi da più lontano con quella chela. Adesso c'è da capire se questa chela la perde crescendo o la dobbiamo andare a prendere noi facendolo fuori, e c'è anche da capire se questo mob è pacifico, cattivo o neutrale. Io immagino sia neutrale, giustamente, magari diventa cattivo se lo attacchiamo, potrebbe essere, ma questo lo scopriremo. Per il resto, a me piace molto, perché giustamente posso costruire da più lontano, ma non solo, possiamo anche salvarci da più in alto, perché avendo la chela a disposizione possiamo piazzare prima il water bucket, possiamo attaccare i giocatori da più lontano se possiamo equipaggiarci una spada per qualche strano motivo. Sono molto curioso di sapere come funzionerà proprio come oggetto. Perché salutano? Mi fanno troppo ridere. Ok, quindi oggi aprono le votazioni. Mi raccomando ragazzuoli, passate il live il 15 ottobre alle 7 di pomeriggio, perché parleremo del Minecraft Live e ce lo vediamo assieme. Le live sono ogni giorno alle due un quarto, alle nove un quarto, quel giorno ne farò una eccezionale. Secondo video, stiamo parlando dell'armadillo, ragazzi. Armadillo, mob che vedo tanto, 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 tanto discusso e tanto amato perché ci dà l'armatura del... Scopriamolo! Il bru ha fatto un boat clutch. Perché sta andando con la barca sulla terraferma? Cosa che ha detto già fondamentale, questo mob non vivrà soltanto nella savana ma anche nella savana, vivrà nei biomi caldi, ottima cosa. E semplicemente ci rilascerà questo skewt, che è tipo quello che ci lasciano le tartarughe quando crescono, che serve per fare l'elmetto, che non usa letteralmente nessuno. Grande Minecraft, migliore aggiunta del gioco. Ok, praticamente io pensavo ci desse soltanto l'armatura per il cane, per il nostro lupo, ma probabilmente ci dà anche l'armatura per il gatto, non vorrei dir cavolate, se ho capito bene, fatemi risentire. Ok, niente, scherzavo. Avevo capito like, quindi pensavo intendesse tutti gli animali a quattro zampe, ma sicuramente intendeva soltanto i lupi. L'armadillo personalmente mi piace molto come animale in sé, come utilità... Io giro sempre con l'elitra, provate a girare con l'elitra il vostro cane e vedete in quanto tempo lo perdete. Non la reputo la migliore scelta, ma andiamo avanti per il momento, perché dobbiamo discutere anche di quella che è stata la rivoluzione. Arriviamo all'ultimo, ovvero il pinguino. Ok, qui ha fatto una precisazione dove praticamente ci sta dicendo speriamo che i nuovi mob non siano cattivi, ma non dovrebbero, secondo me sono neutrali, addirittura dovrebbe essere pacifico e addomesticabile questo qui, ovvero il pinguino. Sono pinguini. Sono pinguini. I pinguini vivono nel biome di Stony Shores e sono super amici, quindi non sbagliati se si vanno a dire holo. I pinguini sono un po' caldo sulla terra, ma sono pinguini eleganti. Una cosa peculiare dei pinguini è che stanno nelle Stony Shores, uno dei biome più noiosi in assoluto della storia di Minecraft, quindi danno quel bel revamp e tra l'altro danno un revamp sia alla terraferma che al mare, perché ha detto che sono molto agili nell'acqua, molto eleganti, mentre invece sono un pochettino più solidi, un po' più tirati sulla terraferma. Però ci ha sostanzialmente confermato che sono sia sulla terraferma che in acqua, ed è una bella cosa, sono come dei delfini, quindi ci riportano gli oggetti se ne abbiamo bisogno e ci fanno anche andare più velocemente e ora vi faccio vedere come. Allora ragazzi, non confondete questa nave che si sta muovendo come una nave effettiva costruita, non potete far muovere gli oggetti se non con la redstone, semplicemente ci sta dicendo che con la barchetta, quella di legno, possiamo andare più velocemente. Lo stesso effetto del delfino che ci fa nuotare, ma con la barca, e uno qua potrebbe dire, vabbè, ma abbiamo già il delfino, a che cosa ci serve? Secondo me invece questa cosa è mua, perché come ho detto prima, la maggior parte del tempo giriamo soltanto con le litra, questo darebbe un senso in più per poter utilizzare la barca, per potersi spostare in un altro modo. E visto che lo sapete, un lacustre come me ama un botto il bioma acquatico, personalmente voterò per il pinguino. Ma qui stiamo aprendo un'altra parentesi. Si è creata una vera e propria rivoluzione attorno al mobboat. Ci sono persone che vogliono boicottare la Mojang, stanno dicendo, mh, questa cosa sta dividendo la community, la gente sta litigando, io voglio questo, io voglio quello, io voglio quell'altro. Ed effettivamente hanno ragione. Qual è il problema? Che nel boicottare il mobboat loro vogliono metterli tutti e tre. E per me sarebbe una cosa bellissima. Ma mi rendo conto che Minecraft nel giro di 4-5 anni sarebbe strapieno di mob. Diventerebbe come un Minecraft moddato. E non a tutti può piacere questa cosa e soprattutto per un utente che si sta interfacciando al gioco per la prima volta non è proprio il top. Ma questo movimento è diventato davvero grande. Sono curiosissimo di vedere dove andrà a finire. Personalmente, se per un anno c'è la possibilità di aggiungere tutti e tre i mob, a me va solo che bene. Magari dall'anno dopo si può fare un buy on vote e aggiungere soltanto un bioma. Magari con la 1.21 faranno l'aggiornamento della nuova dimensione. Lo scopriremo soltanto vivendo. Per il momento, ragazzuoli, io vi ringrazio tantissimo della visione. Se volete discuterne assieme a me vi ricordo che sono in live all'orario che vi ho detto prima, 2.15-9.15. Mi raccomando, ricordatevi di bere due litri d'acqua al giorno. Adesso io vado a finire i miei. E se volete vedere altri miei due video, io ve li lascio qui. Ciao amori miei. Buona giornata.